Cosa che io condivido totalmente. Eppure se si va a vedere il Palmarello a Cannes, a Venezia, o gli Oscar, le commedie vincono quasi mai. Come mai? Non vengono nemmeno selezionate, non vengono nemmeno invitate. Ma come vengono? Ma io, una domanda che mi hanno fatto, io credo che il problema non sussiste, non c'è, non c'è il problema. Ma ci sono dei festival che sono dei festival fortunatamente di commedia. Io ultimamente, in questo ultimo anno, ho viaggiato a mezzo mondo per portare alcuni miei film, tra cui il nostro, le commedie. Ho vinto un sacco di premi e quindi sono, certo sono festival minori, di quali si parla di meno, ma è sempre stato così Antonio. Secondo me è come un libro allo strega, bello in me, è un libro leggero. Vincerai il libro, capito? Sì, più intellettuale, capito? È ovvio. Secondo me c'è un equivoco, cioè in molti c'è l'equivoco, in molti confondono la leggerezza con la superficialità. La leggerezza è un veicolo straordinario, quindi la superficialità può riguardare delle commedie, anche così, semplicemente per diventirsi, un film come si dice, si suol dire battutaro, che fa benissimo, va benissimo, ma magari insomma racconta poco. E poi ci sono i grandi maestri del nostro cinema, io prima citavo Mario Monicelli, ma posso citare Scola, Bonicini, Jerry, posso citare i nostri grandissimi, che attraverso la leggerezza hanno raccontato addirittura, non penso alla grande guerra, hanno raccontato temi drammaticissimi e hanno fatto sì che le persone potessero vedere senza calare subito un muro, perché a volte di fronte a certi argomenti si cala un muro e quindi quelli che riescono poi a digerirlo sono il pubblico, gli spettatori, gli attenti alla voglia, gli spettatori dei festival, quelli che vogliono solo un certo tipo di cinema, dove non c'è nessun tipo di ironia, di umorismo, mentre invece l'umorismo è un veicolo straordinario per poter traghettare degli argomenti importanti. Lo hanno fatto i nostri grandi maestri, tra questi c'è Carlo Virtuole, naturalmente. No, è vero, è vero quando lui parla di malinconia, i suoi film spesso sono malinconicissimi, riesce a parlare di argomenti incredibili, però lo fa con leggerezza, lo fa con superficialità, è diverso. E allora c'è questo equivoco, secondo me molti non lo hanno ancora capito. Io sono d'accordo con lei perché spesso la commedia ha raccontato alcuni drammi, drammi importanti, meglio dei film drammatici. La grande guerra, tutti i casi, una vita difficile, spesso la commedia ha raccontato meglio, anche lo stesso Woody Allen, e poi è un equilibrio difficilissimo, è un genere difficilissimo da fare, perché ci vuole, parlo sempre di film di spessore, umoristici di spessore, è un equilibrio difficilissimo da raggiungere, no? È difficilissimo per rendere gli altri, infatti, insomma, quando ci si riesce, è una gran bella soddisfazione. Vediamo adesso un brano di un film di Paola che si chiama Nessuno, mi buon giudicamento. Sorpresa! Ciao, ciao, come stai? Bene, bene, bene. Sto lavorando. Ah, scusa, scusa. Scusi, vorremmo comprare una venda canadese. Ah, bravi. No.